In vista di questo progetto di implante cocleare, è stato un grande e esitoso. Dopo che l'anno passato, nuove mucche a questa operazione. Ora, la azzea, inclui e cuido anche in un paquete regolare di cobertura. Antes, sempre la mucche sotto la tabina di remarca per un implante cocleare. Ora, ture sacchia cambia e è stato possibile per un adulto nel tambe. Ha la possibilità di mettere un implante cocleare. Quindi ho la possibilità di fare con la azzea che ci sono stati con il Dr. Cabernet per l'amplante cocleare per un implante cocleare per un paquete regolare di azzea che ci sono stati e per l'amore, per l'amore, non c'è solo una remarca per un implante cocleare, ma per un adulto anche. E la pregunta sempre ti chiede a che ora e con un gente adulto ti viene a remarca per un implante cocleare. Oltre a cominciare, la persona ha chiesto oído, ma sarà mai assinato a tras, che non può scusare niente più, né con l'aiuto di un apparato. Un personaggio adulto è un candidato per un implante cocleare, ora ha una perdita di oído molto grande e l'apparato di oído non ti aiuta mai. E per me quando si manda un rischio di azzea che c'è una procedura di selezione, basta amplia, poi c'è una parte medica, di Dr. Cabana o Dr. Rave, poi la parte audiologica e logopedica, qui nella FEPO, e anche un attragetto sociale, da evoluare le persone con la sua famiglia con la situazione sociale in casa. Quindi il punto è molto importante che il paziente abbia un co-therapeutico, quindi una bandera di DG, che per il treno, il giorno, ora ha il processo attivato. Dopo che ora operano qui per l'Ordore di ACI per medio di AZV, quattro adulti operano qui per l'Ordore di ACI 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 per l'Ordore di ACI. L'Ordore di ACI per l'Ordore di ACI per l'Ordore di ACI, di ACI per l'Ordore di ACI per l'Ordore di ACI. In una maniera peligrosa, in una maniera di vista. Tocca messe ora in una buona maniera, in una maniera anche in una maniera peligro. E operazioni non sono molto buona, e la pazienza con un par di 60 e un par di 60. Tengo ora il risultato di tuo implante cocleare che è molto positivo. E operazioni non mostrano che è donato un buon risultato tanto nella roba come nel exterior. E' stato un buon risultato di questo progetto, che è stato un buon risultato di 7 dove childe. E' stato un buon risultato di questo progetto che abbiamo improntato un buon risultato di tutti i nostri bambini. E' stato un buon risultato di Curaçao e un buon risultato di Curaçao. ho potuto vedere che i risultati sono molto bene e anche con i nostri risultati con i nostri risultati. Quindi è importante di realizzare che la behandlinge, con l'anpagso che abbiamo qui a Aruba, e con l'anpagso che abbiamo in noi. Perché io sono di parte della funzione del CIT Team Zuid-Nederland, Quindi tutti i nostri amici che è stato fatto da parte della mia supervisione, ma anche con la stessa esperanza. E' una prestazione del VEPO-team e del Dr. Cabenda, che è stato possibile. E' molto felice che la ziektekostenverzekera AZV che è stato anche in questo modo. e il indicazione di più di più urgenti quando la loro non lascia non parlare non parlare ha avuto il ragione che sono stati in l'anno di vita e quindi oggi abbiamo avuto con due ragioni con la operazione e questo è successo oggi abbiamo ancora due altre ragioni e quindi anche il progetto il progetto che abbiamo fatto sono molto bene e sono molto contento ogni giorno la operazione in Aki e Worte inclui il paese regolare di AZV e questo costa circa 100 mila florini anche il clare e coccleare un risultato positivo è che non è significato per il stop di cuide bo e per il lavoro di un possibile soluzione meglio preveni con la menta poi scorda segui cuide bo e Grazie a tutti.